ebbene carissimi amici quest'oggi parliamo di software e parliamo nello specifico delle vincite di due bellissimi software della mia collezione assolutamente da avere che sono spia mestosa e mister numeretto come sapete i miei software producono sempre delle grandi vincite sono strumenti da avere ma se devo consigliarvi due programmi da avere da seguire sono proprio questi due spia mestosa e mister numeretto due programmi veramente super vincenti che vi consentono di elaborare delle previsioni molto affidabili avete in mano delle previsioni da seguire molto belle che vi producono e vi produrranno sempre delle grandi vincite spia mestosa nell'estrazione del 29 gennaio di sabato paga l'ambosecco 64 71 a cagliari con l'estratto 64 all'ottavo colpo che è il software spia mestosa sapete che ha altre previsioni in gioco perché è un software che ogni volta che esce il 90 su qualsiasi ruota vi dà una previsione come questa estratto ambo eterno quindi sicuramente non mancherà di darci altri risultati quindi mi raccomando e parliamo di programmi che anche per chi è amante del gioco di estratto quindi qui abbiamo un estratto due ruote e stop quindi diventa molto interessante gli estratte le ambate neanche le vado a considerare nonostante siano delle buone vincite perché ne arrivano a valanga gli estratti e le estratti terminati con i miei programmi ne arrivano a valanga vado a considerare ovviamente vi vengo a fare dei video testimonianza sulle vincite più grandi di ambo e di terno ma cosa va a combinare mister numeretto nell'estrazione del 29 avevamo era stata elaborata in data 22 quindi quando esce qualsiasi numeretto sulla ruota di Bari il software vi dà una previsione composta da un estratto 4 ambi e 2 abbinamenti per interno primo colpo estratto 49 Cagliari anche in quinta posizione perché giochiamo un estratto due ruote due posizioni e addirittura terzo colpo si vince il doppio ambo secco 49 87 49 64 proprio i primi due ambi e come vi indico sempre quando i miei programmi pagano delle vincite qualsiasi sasì estratto ambo ambo in terzina nei primissimi colpi è molto probabile che dia un altro esito nei colpi successivi quindi va sempre continuata infatti al terzo colpo dopo l'ambata al primo colpo doppio ambo secco queste sono le vincite che contano queste sono le vincite che valgono qui non parliamo di vincite di poco conto qui parliamo di un doppio ambo a ruota tutto reale tutto documentato previsione scritta nero su bianco elaborate il 22 vincita ottenute il 29 al terzo colpo quindi sono programmi che vi danno delle previsioni molto forti sapete che state giocando delle previsioni valide che avete degli estratti forti e che potete ottenere queste belle vincite quindi mi raccomando a non perdere questi due programmi spia mestosa e mister numeretto potete contattare per l'acquisizione o via mail o via whatsapp numero 348 75 47 715 vi lascio riferimenti in descrizione programmi veramente molto molto validi e non mancheranno ancora di darci delle belle vincite parliamo di software che io ho presentato anni fa e ho ancora oggi dopo anni continuano ad essere vincenti quindi sono software che li prendete oggi e li potrete utilizzare per sempre non hanno bisogno di aggiornamenti non hanno bisogno di versione 2019 2020 2021 2022 che voi ogni anno dovete andare a ripagare per riaggiornare software non esistono queste cose quando lo studio alla base è buono non c'è bisogno di aggiornamento alla base di questi software ci sono dei miei studi su delle spie mirate che non falliscono quindi sono due programmi veramente veramente validi e i risultati lo dimostrano quindi un software che prendete oggi che vi vale per sempre e quanto dovrebbero costare questi software veramente quello che costano davvero un costo ridicolo in relazione a ciò che riescono a produrre c'è questi software dovrebbero essere venduti li potri vendere a qualsiasi prezzo perché sono programmi che producono vincite costanti da anni e hanno centrato i terni secchi a tre numeri a ruota e potete andare sul mio canale a valutare proprio i video di ciò che dico e che ciò che dico è veritivo quindi mi raccomando cari amici non perdete questi due fantastici software per adesso un saluto a tutti i mister banconotto